a arriva il fischio del direttore di gara il signor Nasedu e allora comincia questo terzo quarto di finale della Crese League in programma questa sera a San Luigi di fronte ci sono la farmacia Biasoletto in divisa blu calzoncini e calzettoni bianchi contro l'Excalibur la squadra in maglia nera e inserti bianchi che ora ricomincia l'azione dal proprio portiere Andrea Schreiber ricordiamo che è la gara d'andata dei quarti di finale e il ritorno si giocherà dopo domani quindi nella giornata di domenica sera sono in programma tutti e quattro i match di ritorno dei quarti di finale comincia ad impostare l'azione dalla propria difesa con Malusà che guadagna il possesso palla ancora Malusà sulla sinistra dove c'è Millo punta il diretto avversario va al cross con il sinistro diventa una conclusione in rete in realtà e c'è il vantaggio della farmacia Biasoletto dopo tre minuti di gioco ha segnato il numero tre Nicolò Millo con un fendente di sinistro è entrato anche il calciatore con la maglia numero otto Nicolás Zucchini per la farmacia Biasoletto ora verticalizzazione di Excalibur con Raduico che si stoppa tira o meglio si gira stoppa e tira calcia e colpisce il palo grande esecuzione del numero dieci dell'Excalibur che riceve palla stop di petto e palla allargata su Ciamatore cerchio di centrocampo poi Ciamatore verticalizzazione su Sabachi che difende palla va alla conclusione col sinistro e arriva il pareggio all'undicesimo minuto dell'Excalibur verticalizzazione direttamente da Sabachi consueto lavoro perfetto di difesa del pallone col corpo Piroetta e botta di sinistro in porta che non lascia scampo a Budicin quindi tutto di nuovo in parità farmacia Biasoletto 1 Excalibur 1 ha segnato Sabachi palla controllata da Petrucco che se ne va col sinistro palla che sfila a centimetri dal palo ancora a un passo dal nuovo vantaggio la formazione della farmacia Biasoletto si rimane sull'1 a 1 bella partita equilibrata 13 e 15 sul cronometro in questo primo tempo porta palla Yaya superata metà campo con la verticalizzazione su Sabachi solita sfida con il suo diretto avversario Sabachi se la porta sul sinistro palla in mezzo e diventa un assist per il raddoppio da parte di Yaya che si inserisce coi tempi giusti 19 e 30 sul cronometro solito corpo a corpo tra Sabachi e Saravo ha avuto la meglio il centravanti che è andato alla conclusione era uscito Luca Budicin per tentare di chiudere lo specchio è stato superato dalla traiettoria a quel punto a porta praticamente vuota spazio per la impostazione stavolta Giovannini va ad anticipare secco Sabachi e parte in azione personale giocatore con la maglia numero 4 tenta direttamente la conclusione in porta palla che era indirizzata sotto la traversa deve toglierla quindi Schreiber cancellare la minaccia concedere calcio d'angolo viene battuto da Milo da destra a cercare sul secondo palo per Excalibur Raduico vuole battere veloce però non vede collaborazione dei suoi allora ricomincia da Bois cambiano ancora il numero 4 numero 10 retropassaggio capisce tutto Marzini che va a realizzare il gol del pareggio il giocatore con la maglia numero 10 leggerezza qui in fase di impostazione da parte della squadra dell'Excalibur e quando manca un minuto e 15 secondi al termine di questo primo tempo trascorsi quasi i due minuti di recupero e arriva il fischio finale che decreta la fine del primo tempo da parte del direttore di gara il signor Nasedu si va al riposo sul risultato di 2 a 2 tra farmacia Biasoletto ed Excalibur Comincia il secondo tempo si riparte dal 2 a 2 in questo quarto di finale della Crese League 2017 di fronte Excalibur in maglia nera farmacia Biasoletto in casacca gialla nei pressi della metà campo il numero 4 valuta il posizionamento dei compagni vada Malusali indietro su Saravo fase in cui le due squadre non vogliono scoprirsi particolarmente ci prova quindi giovanini direttamente da metà campo e deve impegnarsi Schreiber per respingere poi Raduico subisce fallo fischiato dall'arbitro Nasedu esce Petrucco Coraffarelli mancano 10 minuti al termine della partita poi solo recupero Raduico la controlla si accentra trova Ciamatore che si aggiusta per il tiro in porta il pallone la devia in calcio d'angolo Luca Budicin allora sarà altro corner per l'Excalibur questa volta da destra batterà Raduico con traiettore ad uscire in mezzo a saltare Ciamatore cercato Sabachi una deviazione recupera il possesso palla la formazione dell'Excalibur con Raduico che ha superato la metà campo a farelli in appoggio Raduico va dalla parte opposta Ciamatore va col destro conclusione sporca che diventa un assist per Raduico palla che rimbalzava in modo strano e quindi inganna il numero 10 che da pochi passi alza sul fondo sopra la traversa della porta difesa da Budicin e si rimane sul risultato di 2 a 2 va l'impostazione con calma Giovannini lo attende Raduico Giovannini va da Milo che tenta la traccia interna si porta palla poi sul sinistro va alla conclusione molto buona ed è ottima anche la risposta di Schreiber che mette in calcio d'angolo un'occasione per parte negli ultimi 60 secondi calcio d'angolo ora da destra si rimane sul risultato di 2 a 2 Raduico su di lui un paio di avversari scarico su Sabachi tre quarti campo appoggio su Ciamatore a sinistra da Raduico uno contro uno con Malusava Raduico col destro a giro e prende un palo conclusione bellissima del numero 10 che va vicinissimo al gol del vantaggio per i suoi si rimane invece sul 2 a 2 grande azione personale laterale la batte proprio Raduico in area si è inserito Farelli c'è anche Sabachi si butta dentro sett'anni ecco l'ho servito col destro e arriva il gol del vantaggio dell'Excalibur ha segnato sett'anni su assist direttamente da rimessa laterale di Raduico che era andato vicino nel minuto precedente in un gol personale prima con un palo colpito e poi con un tiro respinto dal portiere poi è andato ad effettuare l'assist direttamente da rimessa laterale entrato con i tempi giusti sett'anni va da Marzini uno contro uno Marzini cerca il fondo lo chiude Boy si torna da Malusava il cross il colpo di testa di Zucchini e c'è l'occasione per il pareggio per la farmacia Biasoletto ma la palla sfila sul fondo alta sopra la traversa della porta di Schreiber che è andato ora al rinvio allontana Saravo e finisce il match sul finale la squadra dell'Excalibur si aggiudica questa partita 3 a 2 sconfigge la farmacia Biasoletto in questa partita di andata dei quarti di finale della Creselig il ritorno in programma domenica sera